Intendiamo dare voce a chi non ha voce e difendere soprattutto quelle persone i cui diritti vengono calpestati. Ci troviamo dinanzi all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto o al mio fianco il signor Angelo che ci racconterà una brutta storia, una storia di sanità in cui i diritti del malato vengono calpestati. Un fatto davvero spiacevole, brutto, accaduto il primo dell'anno, un 2021 che per il signor Angelo e la sua consorte Filomena di Bari è iniziato certamente male. La signora Filomena soffre, ha dei problemi neurologici a livello di emicrania e il primo gennaio è stata colta proprio da un attacco molto forte di vertigini. Loro vivono a grottaglie, motivo per cui sentendosi male, avendo queste vertigini che diventavano sempre più insopportabili, ha ritenuto opportuno chiamare il 118. Il 118 è arrivato a casa, ha visitato la signora e ora racconterà tutto, sentiremo tutto dalla viva voce del signor Angelo, ha ritenuto opportuno di ricoverare. Ha detto signora lei non è in condizione di stare in casa, si deve ricoverare. E da qui inizia tutta la storia, una storia per farla breve, in cui la signora Filomena arriva al pronto soccorso con l'ambulanza e sta lì gettata, sottolineo, gettata per 12 ore. Dopo 12 ore, esasperata, se ne torna a casa. Questa è la sanità che si vive a Taranto. Dobbiamo dirlo, direttore Rossi, dobbiamo dirlo, presidente Emiliano, perché noi non nascondiamo nulla, diciamo i fatti come stanno. E allora, signor Angelo, ci racconti un po' questa vicenda. Sì, niente, come ha detto il signor Luigi, è successo tutta questa cosa qua. Mia moglie è stata come prima soccorso il 118, tutti gentilissimi, la dottoressa, non mi ricordo neanche il nome, la ringrazio anche. Quelli che sono venuti con l'ambulanza. E niente, poi sono arrivato alla Santissima Enunziata, io per contattare anche mia moglie non lo potevo, perché non mi facevano entrare, pure per sapere se stavo nel pronto soccorso o in camera e cose. Dopo tante cose mia moglie ha avuto la forza di farmi un messaggio, di chiamarmi per dire, io non ce la faccio più qua, nessuno. Sono abbandonata. Sono abbandonata. E niente, poi chiamavo qualcuno, uno che diceva non è del reparto, quando non stava in reparto mia moglie, stava nella sala del pronto soccorso. Seduta sulle sedie. Sulla sedia, le cose. L'unica cosa che so, che poi neanche mi hanno lasciato nessuna foglia di uscire, l'unica cosa che so è che l'hanno fatto le analisi, mi ha detto mia moglie. Quindi la situazione, precisiamo meglio, è così. Il 118, massima professionalità, massima disponibilità, porta la signora in ospedale. Premettiamo, signor Angelo, che la signora voleva evitare di andare in ospedale, ma sono stati i medici, la dottoressa del 118 che ha detto? Che ha detto è opportuno di portarla al pronto soccorso della Santissima Enunziata. È quello che hanno fatto. L'hanno portata qua e l'hanno abbandonata proprio. Perché il primo gennaio non è che il signor Angelo e la signora Filomena non avevano niente da fare, volevano passare il tempo andando al pronto soccorso del Santissima Enunziata. Sono andati, arrivano lì, si fa ovviamente, vengono effettuati i prelievi, insomma le operazioni preliminari che si fanno appena si arriva. Da quel momento in poi, per 12 ore, non è stato fatto nulla. Neanche per andare in bagno. Non c'era nessuno che potesse accompagnarla. E l'hanno messo anche il pannolone. Bene. Non ha avuto neanche un bicchiere d'acqua. Niente, niente, pure per chiedere se volete un crackers, qualcosa di appoggiato. Ma anche un bicchiere d'acqua, lasciamo stare il crackers. No, neanche acqua. Allora, direttore Rossi, vede cosa sta succedendo? Io ho massimo rispetto per i medici, perché i medici fanno tanto, soprattutto in questo periodo di Covid. Però il problema non è tanto i medici, quanto la pessima organizzazione che c'è. Perché quando una povera crista arriva lì e la si lascia per 12 ore abbandonata a se stesso, questo è un fallimento della sanità. Caro Emiliano, tu che vieni a fare la sceneggiata, perché di sceneggiata si tratta, per quanto riguarda i lavori dell'ospedale San Cataldo. La prima volta sei venuto per la posa della prima pietra. Poi sei venuto la seconda volta quando c'era Conte. Ora viene messo il cacestruzzo e fai un'altra sorta di inaugurazione. Emiliano, invece di fare questi show, visto che a te piacciono tanto gli show con Barbara D'Urso, ma poi politicamente, operativamente, tu quagli poco e nulla, guarda questo che è accaduto qui, guarda questi diritti negati, questo scempio che è accaduto a questa signora. Perché è gravissimo. Alla signora non è stato dato neanche un bicchiere d'acqua. E allora si deve svolgere, caro direttore Rossi, una commissione, deve essere realizzata, si deve attivare una commissione di inchiesta su questa situazione. Perché non è possibile. È giusto rispettare tutte le misure del Covid, anti-Covid, che i parenti non possono entrare e siamo d'accordo. Ma una signora che viene ricoverata non può essere, caspita, abbandonata per 12 ore. Vergogna, Emiliano. Vergogna, direttore Rossi. È una vergogna. Senza se e senza ma. Diciamocene queste cose. Basta con questi show. Pensiamo alla situazione. Quindi la signora dopo 12 ore si esaspera, abbandonata. Non ha neanche la possibilità di andare a gabinetto. Le viene messo un pannolone, non ha un bicchiere d'acqua, non ha nulla. Dopo 12 ore si esaspera. Chiama il marito, un messaggio, una telefonata al cellulare e dice senti, io se devo crepare, tra virgolette, preferisco crepare a casa mia. Giusto, giustissimo. E poi tutto quello che è stato detto è tutto vero. Quindi la signora se ne torna a casa. Ora ci sarà un'altra beffa, ve lo dico io. Perché si dirà, lei è venuta, per sua scelta ha deciso di firmare le dimissioni e ora probabilmente arriverà anche il pagamento della prestazione. Cioè la multa in buona sostanza. Lei si dirà, tu sei venuta qui, poi te ne sei andata, pazienza, ci devi pagare la prestazione. La mancata, perché ci hai comunque impegnato e quindi dovrai pagare l'accesso al pronto soccorso visto che hai deciso di andartene volontariamente. Quindi oltre il danno la beffa. Perché questa persona se ne è andata a casa, non perché doveva passeggiare o doveva andare a fare le orecchiette. Ma se ne è rimasta ancora male, fino a oggi sta ancora male. Alla guardia medica di Grottaglio ci hanno dato delle medicine per le antivertigini. Qua non hanno fatto niente. Quindi questa persona se ne va a casa esasperata perché dice non posso reggere più, non posso stare qui buttata e oltre al danno ci sarebbe la beffa. Cioè questa poveretta che deve ricevere pure una sanzione, deve pure pagare. Insomma, direttore Rossi, presidente Emiliano, come deve andare a finire? Che questa persona, come si suol dire, deve uscirne cornuta e mazziata? Non ha avuto un foglio di via, nulla. Pure per sapere quello che l'hanno fatto o non l'hanno fatto. Quindi non c'è neanche una casa, ci sarà all'interno, magari la richiederà, ma questo è un problema. Però possono segnare quello che vogliono a quel punto. Questo è un discorso secondario, però a me la cosa che interessa è il fatto che questa povera persona è stata 12 ore lì e vi posso assicurare? Io non ce l'ho con i medici del pronto soccorso, né col personale infermieristico, perché si trovano nel casino, nell'inferno, perché è un inferno il pronto soccorso italiano. Non per colpa loro, ma per la disorganizzazione amministrativa, perché si deve potenziare il personale, perché deve essere organizzata diversamente la cosa, perché è chiaro che il medico si trova a 20 pazienti, 30 pazienti e impazzisce, non può fare più di tanti. Io non me la prendo con il medico, non me la prendo con gli infermieri. Non è che il medico o l'infermiere se ne è lavato le mani, ma il problema è che non c'è un'organizzazione per cui non c'è personale, l'organizzazione è molto ma molto carente e alla fine il medico non può fare miracoli e il paziente viene abbandonato. Il problema è dunque organizzativo. Se il signore Emiliano un anno fa e più ha deciso di chiudere varie strutture ospedaliere, ha deciso di chiudere varie pronto soccorso, è ovvio che succede questo casino, perché poi il pronto soccorso di Taranto scoppia dal momento che le altre strutture di pronto soccorso sono state soppresse. Lasciamo perdere poi che c'è stata la vicenda Covid e la riconversione di vari ospedali in centri Covid, ma al di là di questo, al netto di questo, l'errore fondamentale, l'errore da cui è partito tutto, l'assurdità, la follia è stata aver chiuso questi pronto soccorso e questi sono i risultati. Quindi una incapacità politica, amministrativa, operativa e gestionale della sanità targata Emiliano. Una sanità che ora c'è anche lo scienziato Lopalco, massimo rispetto per l'uomo di scienza Lopalco, in questo senso scienziato, ma se questi sono i risultati, caro Lopalco, te ne potevi stare a casa tua, nessuno avrebbe sentito la tua mancanza, anzi avremmo risparmiato soldi, e per la consulenza data all'inizio e ora per l'indennità che Lopalco riceve da assessore. Occorre cambiare, Lopalco non sta assolutamente producendo risultati adeguati. Allora io, signor Angelo, la ringrazio intanto per il coraggio, ma anche perché dobbiamo capire una cosa. Direttore Rossi, Governatore Emiliano, tutti sotto questo cielo, vedete questo cielo? Lo guardate? Guardate quanto è bello questo cielo stamattina. Tutti sotto questo cielo stiamo. E quello che è accaduto alla signora Filomena può accadere a Luigi, può accadere a Michelone Emiliano, può accadere a Stefano Rossi, può accadere a chi che sia. Questa è la realtà, signori cari. Bene, un 2021 che dal punto di vista della sanità non è iniziato assolutamente bene, ma noi siamo liberi, liberi come l'aria, e siamo pronti a sputtanare queste situazioni. Tutto tollero, ma che nessuno calpesti i diritti sacrosanti dell'ammalato. Capito Direttore Rossi? Capito Governatore Emiliano? Datevi una bella regolata! Grazie a tutti!